Torna il terrore e la paura in Neval per una nuova forte scossa di terremoto dopo quella di tre settimane fa che ha provocato la morte di oltre 7.000 persone. Il nuovo sisma del 7.4 della scala Richter ha corpito il nord-est della regione. Il primo bilancio parla di 59 morti, 42 le vittime nel paese, ma è un bilancio naturalmente che potrebbe aggravarsi con il passare delle ore. La scossa ha scatenato il panico a Kathmandu dove molte persone sono scese nelle strade. Intanto anche in India si sono registrati dei morti per questo nuovo movimento tellurico e secondo le informazioni fornite dalle autorità indiane almeno 12 persone sono rimaste decedute.